Quale etichetta per i prodotti alimentari? Il dibattito è aperto. Due, gli orientamenti di massima per standardizzare le informazioni nutrizionali degli alimenti dell'Unione Europea. Il sistema a semaforo di valutazione sui nutrienti del prodotto promosso da Francia e Germania denominato NutriScore. Quello italiano che fornisce una valutazione neutrale sugli alimenti informando sulla quantità di nutrienti presenti nel prodotto rispetto al fabbisogno giornaliero denominato NutriInformBattery. Il tema è discusso tanto in Europa quanto in Italia. A Bari è stato affrontato nell'incontro NutriScore e informazioni nutrizionali promosso da Regione Puglia, enti e associazioni di consumatori tra cui il Codacons. Il tema richiede comunque un approccio educativo da parte delle autorità pubbliche in un sistema che ormai ci pone di fronte ad un mercato concorrenziale, competitivo, dove è presente una diversificata varietà di prodotti alimentari non sempre facilmente riconoscibili. Entrambi i sistemi rappresentano due semplificazioni che possono aiutare i consumatori a orientarsi. Per il rappresentante Codacons Puglia, Dario D'Urso, il sistema a semaforo potrebbe però essere troppo penalizzante per alcune eccellenze made in Italy. Mettere un bollino rosso a un prodotto, per esempio il parmigiano reggiano o altri prodotti tipici pugliesi o nazionali, significa non solo scarroggiare il consumo di quel determinato prodotto tipico della tradizione pugliese o italiana, quindi con danni all'economia locale e all'economia nazionale, ma significa anche bollare per sempre un prodotto come un prodotto dannoso per la salute quando in realtà non si è tenuto conto di una serie di parametri importanti.